segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è stato fatto anche il suo nome come possibile ministro tecnico chiamiamolo come vogliamo è stato è stato fatto dal fatto quotidiano è stato fatto dal fatto quotidiano lo devo chiedere nel senso che siccome lei ha smentito però ha anche detto se la chiamasse il presidente mattarella io ho detto che se il presidente mattarella chiama qualcuno ma guardi io sconsiglierei al presidente consiglio meloni di chiamare dei tecnici ancora incaricata il futuro incaricato presidente consiglio meloni di chiamare dei tecnici lei deve formarsi una squadra di persone competenti di cui si fida e che portano avanti il suo programma lei lo vede nella classe dirigente di fratelli d'italia però certamente il livello di conoscenze della meloni è certamente abbastanza ampio e può trovare delle persone che possano lavorare in squadra con lei per funzionare una squadra ha bisogno che ci sia un leader che ha delle idee e che si interessa concretamente dei problemi e da quello che io ho visto la meloni è una che studia e che approfondisce i temi e che vuole entrare personalmente nei problemi più grandi e quindi lei deve farsi una squadra che sia a sua misura e di cui si fidi totalmente per poter dare delle indicazioni insomma un presidente consiglio lo volevamo però già studiato un po' o no nel senso che no ma guardi l'inserimento di un corpo estraneo non funziona mai benissimo e io non sono convinto che i tecnici del governo siano qualcosa di utile no 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 ma nel senso che appunto e per quanto riguarda scusi mi faccio aggiungere a quello che diceva Padellaro il problema di Panetta Panetta oggi ha una posizione importantissima in BCE che non è detto che l'Italia centrale europea è nel bordo che l'Italia abbia se lui dovesse lasciare quindi io penso che saggiamente Panetta debba restare e quindi che si possa cercare qualcun altro c'è un problema però mi scusi ed è il problema del rapporto con le autorità europee perché noi abbiamo usciamo da una compagine governativa che ha fatto bene ha fatto male guidata da un signore che quando arriva a Bruxelles credo che gli facciano non dico la riverenza ma quasi e comunque è grodi di grande autorevolezza abbiamo un ministro comunque che ha lavorato bene in linea con il presidente Draghi e quindi a Bruxelles tanto per capirci sanno con chi devono parlare il problema di trovare diceva Lilli le persone competenti è una parola è una bella espressione ma dove sono i competenti a livello politico in questa maggioranza di governo? non è solo questione di competenze ci vanno molte qualità per fare il ministro dell'economia la competenza la capacità di lavorare in squadra anche la forza fisica perché il lavoro io direi una cosa in particolare cioè il problema che io vedo per Giorgia Meloni oggi non è tanto fare una prova di leadership interna il problema è il rapporto con l'Europa e il rapporto con l'esterno l'economia è importante perché l'economia vuol dire trattativa sull'energia sul gas e magari poi ne parleremo vuol dire PNRR vuol dire che se non c'è una decisione a livello europeo sulla crisi energetica l'Italia dovrà fare nuovo debito quindi scostamento di bilancio che dovrà trattare con l'Europa a Giorgia Meloni serve diciamo chiudere con le ostilità verso l'Europa e mettere all'economia una persona che fluidifichi il rapporto con l'Europa quindi questo è il suo interesse ed è contrapposto a quello di Salvini che invece deve tenere buoni suoi volevo solo dirvi che la russa li chiedono del Senato e lui risponde che è molto ottimista sulla tenuta della coalizione e dal G7 che sapete c'è un G7 straordinario arriva la notizia che sono d'accordo nel dire che dall'aggressione della Russia ci sono significativi disagi per l'economia qualora qualcuno avesse ancora avuto c'è una recessione che il Fondo Monetario prevede per l'Italia e per la Germania il prossimo anno quindi il cammino per Giorgia Meloni è assolutamente un cammino complicatissimo tra l'altro vorrei dire visto che